Andare in moto non è l'unico modo che abbiamo per allenarci. Anche col drift, ad esempio, migliori le tue abilità. Per le nostre sfide qui all'Academy usiamo delle Ford Mustang. Con la loro potenza e la trazione posteriore sono perfette per queste gare. Per iniziare ad erappare ti basta accelerare e sterzare con decisioni. Ricordati che la cosa più importante... Grazie a tutti. 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 Buongiorno, buongiorno. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.